Stop alle operazioni chirurgiche non di emergenza alla Sampio di Vasto e questo quanto sta accadendo presso il presidio ospedaliero cittadino a partire dalla giornata di ieri. Un disservizio causato dalla mancanza di anestesisti e che sta creando innumerevoli disagi agli utenti del nosocomio vastese. Una situazione che non permette di garantire i livelli minimi assistenziali e su cui il primo cittadino di Vasto, Francesco Menna, si è espresso così. Un grande disagio, una situazione assurda in ospedale. Non avere anestesisti significa non operare, non avere interventi chirurgici, concentrarsi solo sulle urgenze. Per l'ospedale significa la paralisi. Ci faremo sentire in tutte le sedi, faremo battaglia politica, coinvolgeremo tutto il mondo possibile e immaginabile affinché la regione, il presidente Marsiglio, l'assessore Verì, l'assessore alla sanità, il direttore Leccelle, si rendano conto che questa è una città che merita rispetto perché è una città che vale e perché l'ospedalità qui raccoglie anche tante adesioni da altre regioni e non è possibile paralizzare un ospedale. Una battaglia trasversale, quella sull'ospedale, su cui anche la minoranza è pronta a fare fronte comune. Il polo chirurgico deve assolutamente tornare a funzionare con una certa regolarità e allora noi chiediamo come aggregazione civica di adottare delle misure di emergenza perché in una situazione di emergenza tale deve essere la risposta, una risposta di emergenza che non passa per i contratti o per i soldi oppure per la carenza di risorse. Purtroppo in questa nostra città e il nostro ospedale sta pagando fortemente un'assenza di programmazione ed è un'assenza di programmazione che non ha colori che purtroppo risale ad anni addietro allora quando ci sono stati promessi altri due posti in rianimazione che invece non sono stati dati. Oggi è il caso di adottare misure idonee ad assicurare questo servizio per la salute dei nostri cittadini.